Niente, oggi non ho sentito particolare questa partita perché nella mia squadra sapevamo che è una squadra facile e io sono convinto che Rippo ha dei grandi giocatori e farà, secondo me, delle partite stupende. Per fortuna noi stiamo lavorando, come ti dicevo, in settimana tanto bene, sono molto contento, ci sono motivati, severi, severi in campo e uno sta lì, sono questi i risultati di quello che stiamo lavorando. Adesso il campionato è bellissimo, abbiamo ancora il ginone del ritorno, è un campionato apertissimo e penso che la cosa migliore che possiamo fare è pensare partita per partita per andare a giocare con questo atteggiamento vincente, concentrati e uno sa, un giocatore sa che cosa fa e questo dà l'estrare al gioco. Dopo il tempo lo dirà, ma non restano con il programma. Ringrazio il pubblico come sempre, tanto caloroso, speriamo che sempre ci siano più gente qua a rinforzare la nostra squadra e come sempre, forse scuole. Ciao!